Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise. Sì, sono ancora senza internet, quindi le attività su YouTube stanno andando un po' a rilento. Ho un piano dei video sui Tango, ho un piano dei videoguida e altre cose su cui stavo lavorando, ma chiaramente la senza internet non mi sta aiutando. Detto ciò, molti di voi forse lo sanno, altri no. Comunque sto riuscendo a streamare su Twitch, ovvio non da casa, chiaramente. Però appunto sto andando live comunque, quindi potete seguirmi lì for the time being e nel frattempo appunto realizzerò probabilmente qualche video di questo genere per non lasciare YouTube totalmente offline. Purtroppo appunto non so quando tornerà, ci stiamo informando tutti, non è solo un problema mio ma di tutto il condominio e cercherò di risolvere la situazione il prima possibile. Però ripeto, nel frattempo sto comunque su Twitch a fare open lobby, discussioni e tante altre cose insomma. Ora, volevo fare questo video perché era apparso un topic molto importante di cui volevo parlare con tutti quanti voi, che è il tracking in Monster Hunter in generale, ma specialmente in Monster Hunter Rise. Perché che è successo? È successo che qualche giorno fa Capcom ha rilasciato una nuova, come dire, una patch. Questo è proprio il rassuntone, qualche giorno fa, ormai più di qualche giorno fa, dove essenzialmente addressavano il problema del tracking in Monster Hunter Rise. O meglio, quello che loro chiamavano il problema del tracking, che a quanto pare era una sorta di bug. Ok, ora però voglio andare davvero a dire la mia. Sotto c'è un video di Titus a cui voglio reagire perché come al solito su queste cose sono un po' la voce fuori dal coro in community. Però appunto voglio darvi una prospettiva diversa, che secondo me invece era molto importante. E lo so, il tracking, proprio come meccanica in sé, è estremamente fastidiosa. Se fatta male, chiaramente può risultare frustrante. Però il punto principale di questo video, della ragione per cui appunto lo sto facendo, è che io non penso che il tracking in Rise era così sbagliato. Questo qua è il punto principale, nel senso, io credo che il tracking di Monster Hunter Rise era la risposta del Capcom all'estrema mobilità aggiuntiva che hanno dato all'Hunter in quinta generazione. Prima di appunto fare video botta risposta, che ovviamente come vedete con questo sfondo qua, vi faccio un piccolo tour del tracking durante il corso dei vari Monster Hunter. Essenzialmente in prima e in seconda generazione non esisteva, non c'era nemmeno bisogno. La mobilità dell'Hunter era talmente tanto limitata che era 100% positioning, essenzialmente in primo Monster Hunter. Il tracking non esisteva perché il tracking, per come lo intendiamo, è durante le animazioni d'attacco. Difatti nelle prime due generazioni, una volta che il Monster aveva finito un'azione, si spostava, si direzionava verso il suo bersaglio, ma una volta che lui aveva cominciato un attacco, dritto per dritto, punto. In terza e quarta generazione, con l'incremento della mobilità dell'Hunter, il tracking è diventato una cosa che esiste anche in Monster Hunter, su un piccolissimo degre in realtà, e principalmente erano le cariche, ok? Direi a quasi anche a malapena percettibile. Ragione per cui poi, molti dei mostri, i Monster Hunter World li fottevamo male. Monster Hunter World usa lo stesso sistema di tracking delle generazioni precedenti, non vi fate ingannare dalle cariche curve, quelle sono tutta altra cosa, non è tracking, quella è solo animazione diversa che consente ai mostri di iniziare la carica da posizioni che non erano davanti il player, praticamente, quindi non vi fate ingannare dalle due cose, quello non è tracking. Se la Radiant sta con la faccia in avanti e inizia a sparare una palla di fuoco, la palla di fuoco va avanti, la Radiant non sposta la faccia mentre esegue la palla di fuoco, o meglio, la sposta leggermente come in terza e in quarta generazione, appunto. Quindi, di fatti, potevate praticamente camminare via i tre quarti degli attacchi del gioco, con eccezioni tipo essere roba con un'immensa OE e poca altra roba, a dire la verità, perché questo era il problema. Il problema grosso, appunto, della quinta generazione era che, che quindi stiamo parlando di Ward e Iceborne, è che, appunto, l'Hunter è all'improvviso diventato 40 volte più mobile, è diventato estremamente più agile, con la possibilità di cancellare un sacco di azioni in più, ha un sacco di dull in più, eccetera, e i mosse di noi stavano dietro. E quindi, quando è uscito Rise e hanno dato questo tracking così aggressivo sulle mosse, è perché pensavo che era la risposta di Capcom, una risposta anche relativamente barbina, ma del tutto efficace, di, ok, se l'Hunter si muove così tanto, abbiamo bisogno che i mostri, visto che devono colpire l'Hunter, devono traccare con gli attacchi, quindi l'Hunter deve essere comunque attento, praticamente fino alla fine, per doggiare, schivare, counterare, whatever, ok? Non è importante. Per alcune le mosse forse era eccessivo, ma perlopiù questa cosa qui dava un senso di challenge al gioco, nel senso non potevi semplicemente camminare via di altri attacchi. Ora, perché appunto sto dicendo tutte queste cose qua? Perché hanno rimosso sta cosa, e siamo tornati con il tracking di quinta generazione base, che è il tracking di quarta generazione. Io all'inizio non ci ho fatto nemmeno tanto caso, a parte che all'improvviso ho notato che era diventato molto più facile doggiare tutto il gioco. E come sapete, avendo giocato per tutto il gioco, di fatti, con tutte e 14 le armi, ho sentito tipo un jump, quando mi hanno fatto notare questa cosa, ho detto, cazzo, effettivamente questa cosa è vera, e ho notato che appunto un enorme drop in difficoltà, di tantissima roba, cioè molte delle azioni che prima ti tenevano, diciamo, col fiato sul collo, si può dire, adesso sono praticamente degli scherzi, ok? Tipo lo slam della goda del Tobi Kadashi, il raggio del Rajang, i beam del Magna Malo, e tutte le nuke dei deraganziani, tutte, proprio tutte le nuke, tutte le folate di vento del Kushala, tutto. Praticamente tutta questa roba qua che prima o imparavi a doggiare, o le counteravi, oppure dovevi davvero esserti posizionato bene, adesso... un cazzo. Adesso puoi letteralmente camminare a destra e a sinistra di questi attacchi. Ora, il problema principale, come vi stavo dicendo prima, è che un fatto è camminare a destra e a sinistra in Monster Hunter 4, dove l'automobilità era estremamente limitata, la movement speed del player era estremamente bassa, eccetera, un fatto è Rise. E questo è il punto di questo video, quindi iniziamo appunto a parlare con anche quelli video di Tadios in sottofondo, magari vi accendo i sottotitoli che vi possono tornare utili, perché appunto è il punto che volevo trattare, appunto, un po' di botte e risposta su queste cose qua. Sarò la voce impopolare della community, ragazzi, su queste cose lo sapete che sono un po' così, ma ci tengo davvero tanto a analizzare questo topic. Quindi iniziamo. At least that's what they say in the patch note. What they didn't say is that they actually made a massive change to the game and how the game works. If you played Rise a lot and you also played other Monster Hunters, whether it's World or Older Games, you will know that the tracking in Rise is very aggressive compared to all the titles. Questo è quello che vi dicevo io. Non è il tracking, è proprio il tracking in Rise specificatamente, perché appunto l'hanno dato un tracking molto aggressivo durante le mosse. Ripeto, specialmente quelli che noi chiamiamo negli altri Monster Hunter, gli shell dei mostri, quindi attacchi che sparano qualcosa oppure i fast attack, dei mostri, non overhaul. If you don't know what tracking is, when the monster is doing an attack, let's say the monster is trying to bite you, if you move out of the way, the monster will try to follow you and try to hit you even if you move. That's normal, it's called tracking, and if monsters had no tracking at all, they would never be able to hit you. Ecco, questa cosa qua, voglio specificare un po', un punto su questa cosa perché chiaramente da game dev posso anche dirlo con più precisione, questa cosa qua non è il mostro che prova a colpire Hunter regardless, cioè nel senso la meccanica è spiegata male, non è vero che succede questa cosa, succede che il mostro attraverso i controlli dello scrittore che ha tenta di posizionarsi in modo corretto attraverso comunque delle velocità eccetera, cerca di posizionare le sue ossa nella posizione del player, o comunque del suo target in generale, non è a prova a colpire l'Hunter come se fosse una roba che ti sta provando a cittare, lui tracca una location, un luogo, non un bersaglio, cioè sono le ossa che tentano di spostarsi, e questa è una differenza sostanziale perché non è il gioco che sta provando a cittare il giocatore, è molto diverso, quindi tenete in mente questa cosa, è una roba normale che succede sempre, e appunto come dicevo non riesce a colpire l'Hunter in questo caso se questa cosa non ci fosse perché mobilità eccessiva, ripeto in seconda generazione non esisteva niente del genere, anche perché gli scheletri di seconda generazione non consentivano una roba del genere, eccetto un pochino quello del Tigrex, infatti il Tigrex leggermente curvava durante le cariche. Questa qui è per esempio che lui dice è una cazzata, questa cosa qui non accade, il mostro non ti tracca fino alla fine dell'animazione, il mostro ti tracca fino a momenti prima dello shell dell'animazione, che voglio dire? esempio, perché se questa cosa fosse una cazzata il Rajang vi seguirebbe mentre per il raggio, che voglio dire? Voglio dire che il tracking avviene fino a quando la mossa non è cominciata, fino a quando il raggio non è stato sparato, se questa cosa che diceva se no lui fosse stata vera, prende il Rajang dopo che ha sparato il raggio, cioè mentre il raggio va... viene fuori, prende il raggio e vi segue, non è quello che chiaramente succede, il tracking è solo la prima parte dell'animazione, è il wind up dell'animazione, il wind up perché altrimenti, appunto, ripeto, non ha senso, cambierebbero proprio come funzionano le mosse in Monster Hunter, non è così, è la parte prima dell'attacco, quindi fate attenzione pure a questa cosa qua, non è così illegale, dopo che l'attacco è cominciato di fatti, ok, quindi il raggio del Rajang, la Fireball della Rathian, il mostro smette di traccarvi, la Rathian non continua a girare la testa verso di voi dopo che ha sparato la palla di fuoco, punto. Quindi attenzione che la differenza è abbastanza grossa, perché altrimenti toglierebbe tutto il concetto di positioning di Monster Hunter, sta cosa. Vespe giganti, molto bene. It was not the case as much in the older games, and that means that in Rise, it's a lot more difficult to evade an attack by rolling, or by walking away, compared to other games. It's much more optimal to use your counters, and in Rise, most weapons have at least one counters, and the game pushes you to use your counters instead of evading an attack the way you would do it in all the games. Ecco, lui parla qui in modo specifico dei soft moi, in realtà non parla dei hard moi, lui dice che in realtà è una verità, che chiaramente, per colpa di questa meccanica, succede che, visto che il mostro tracca molto di più di prima, chiaramente è più difficile fare un soft moi agli attacchi, e quindi è meglio usare un counter. vero e non vero al tempo stesso questa ultima parte, però la parte che è vera è che, sì, è più difficile chiaramente eseguire un soft moi, o meglio, è più difficile eseguire un soft moi se non hai le mani. Perché il soft moi, per chi appunto non lo sapesse, è praticamente sfruttare i primi frame, ripeto, scusate, mi correggo per essere più chiaro, la schivata e mostrante era un tempo di invincibilità, ok? Questa cosa qui, usare questo tempo di invulnerabilità per schivare gli attacchi, in Monster Hunter li chiamiamo moi, ovvero Moment of Invincibility, oppure Moment of Invulnerability, ok? Esistono due tipi di moi, l'allatto pratico in dinamica, uno si chiamiamo hard moi, l'altro lo chiamiamo soft moi, l'hard moi è schivare l'attacco per intero, quindi io premo x, rimango nella portata dell'attacco, ma la durata dell'invincibilità del mio roll è sufficiente, o di qualsiasi frame, è sufficiente per schivare per intero la durata dell'hitbox. Invece cos'è il soft moi? Il soft moi è utilizzo la durata dell'invincibilità del mio roll o del qualsiasi altro mossa evasiva io ho per andare fuori dalla portata dell'attacco. Però che vuol dire? Questo che vuol dire? Vuol dire ad esempio che per esempio il raggio del raggiang dura tanto tempo, non puoi fare gli hard moi, nel senso se tu provi a doggiare il raggio del raggiang dritto per dritto, sì, una volta finito il periodo di invincibilità, mangi il raggio, ok? E prendi infiniti milioni di danni. Mentre il soft moi è il raggiang punta me, premo x, per schivare chiaramente a destra o a sinistra, il raggio mi avrebbe preso se avessi semplicemente camminato, ma grazie al primo periodo di invincibilità del roll, l'invincibilità mi ha consentito di spostarmi via dall'hitbox del raggio del raggiang. Questa è la parte che era diventata più difficile con Ryze, più che altro, non è che è diventata più difficile, non potevi dodge, spammare dodge, nel senso dovevi essenzialmente stare attento con i tempismi, che è poi quello che succedeva in Frontier, per colpa di Yahweh e ovviamente anche lì del tracking, che c'è il tracking che da un certo punto di vista è simile a quello che c'è in Ryze quando arrivi in endgame. Lì non puoi premere e spammare roll a casaccia, ok? Roll e dodge a casaccia. Devi stare attento, lo devi fare al momento esatto. Se sbagli il timing vieni fottuto. Quindi questo è quello che in realtà volevano raggiungere lì. Mentre appunto in ward, con tutta la mobilità, la velocità di base del lanter, eccetera, era estremamente più facile soft mojare, perché in realtà non stavi nemmeno soft mojando. Stavi letteralmente già fuori dalla portata dell'attacco. Questa è la differenza principale che... su cui voglio marciare. Cioè, non... non stai proprio schivando. Non è che stai schivando... adesso è più difficile schivare. Schivare è... difficile tanto quanto prima. Soltanto che adesso devi farlo bene. Che... What a surprise! È quello che sarebbe sempre dovuto succedere. Comunque andiamo avanti. Allora, se non lo so, il tracking dei monstri è molto più aggressivo il più alto il framerate. Quindi, se tu giochi a PC con un alto framerate, il tracking sarà molto aggressivo. Ma se tu giochi a Switch, sarà molto più tolerabile. Alcune persone non lo so, e alcune persone sono stati critici. Io, per esempio, sono stati critici di avere due spamme counters. Non mi piace a tutto, ma è solo la mia opinione. E questo è il video di oggi. Ok, voglio anche dire questo cosa del framerate al volo. Probabilmente quello che Capcom ha fatto, perché questa è una cosa che fanno in tutti i Monster Hunter, perché non è una cosa di cui sono nemmeno fan da sviluppatore. Loro hanno molti eventi che sono legati al framerate. Questa cosa, anche quando moddavo Unite, era tipo la merda, per dire, perché ogni qualvolta che volevi provare a slegare quegli eventi lì, ovviamente non smettevano di funzionare, oppure si sputtanavano male. Quello che lui vuole dire è che in realtà appunto, solo perché l'ha detto Mr. Modder 1, 2, 3 non corrisponde al vero, è questo qua. Se il processore ha la possibilità di rifresciare e fare il calcolo molto più rapidamente, il tracking è molto più accurato. Quindi non è che su Switch il tracking era peggio che su PC. La moccanica è identica, soltanto che su PC se refresh il gioco a 300 fps, quindi fa 300 tick, ok? Per esempio, se il tick è 300, lui vuol dire che ricalcola la posizione 300 volte, anziché 30 su Switch. Ma il tracking non è diverso, ok? È solo una questione che è legato a quante volte, cioè è più accurato, più il framerate è più accurato, chiaramente. Oltretutto, piccola nota a margine, perché quando hanno fatto questa patch che si chiamava, che hanno appunto cercato di addressare questa cosa del tracking, io penso che in realtà quello che loro sono andati a fixare non è il tracking. Non lo è il tracking, ma sono tutti gli eventi legati al framerate in generale, perché ho notato, e questa cosa qua avrei bisogno anche di qualcuno che ha fatto anche dei test prima in modo esteso, che tutti i miei, che ne so, che i proiettili Peerz cliccano meno spesso. perché prima anche il refresh, cioè, il calcolo dei Peerz, del, oh, devo farti danno, è legato al framerate, ancora una volta. E quindi risultava che su PC facevi più tick, e alcune balestre sparavano proprio straight up più in fretta, che mi pare che non succeda più, ma in modo sensibile, cazzo. Specialmente quando usi Peerz 3, sui Levi Bogan, mi pare che sto facendo molti tick di danno in meno, ma visibilmente. quindi io penso che quando Capcom ha messo questo risolto dei bug, io penso che loro stiano addressando i problemi legati agli eventi di gioco combat-wise, che erano legati al framerate, che include il tracking dei mostri, ma non è solo il tracking dei mostri. Capcom, 3 weeks ago, a la fine dell'August, in una piccola patch che abbiamo parlato di prima, ha fatto un'erfe tracciato di una grande quantità. Se spiegare su Switch, vedrai un po' di differenza, ma se spiegare su PC, soprattutto a high framerate, la differenza è massima. È un gioco completamente diverso. Se hai guardato il clip in il background di questo video, vedrai me caminare casualmente di quasi ogni attacca, che non era possibile prima. Questo è quello che vi dicevo prima. Chiaramente il Magna Malo, prima di farvi lo slam con la mano, vi traccava tutto il tempo. Questo vi faceva forzare a o imparare a doggiare, o a canterare, o a posizionarvi davvero bene. Perché voglio ripetere anche questa cosa qui. Il tracking non è assolutamente il mostro che prova a colpire l'Hunter. Sono le ossa che si riposizionano per raggiungere la location corretta. E sono due cose riperse. Che vuol dire sta cosa? Vuol dire che se voi stavate dietro il Magna, anche se lui stava con la mano alzata, i constraint, il... Come cazzo posso dire in italiano? I limiti dello scheletro del Magna. Non è che lui facevano prendere la mano e andare dietro la schiena di botto. C'erano dei limiti a sta cosa che... Io sto difendendo il tracking, lo so, lo capisco qui che molto potrebbe essere controverso per questa cosa qua, in alcuni sensi. Però, è ridicolo adesso. Capite? Questo è il fatto che camminando praticamente milì al Magna, incluso l'ai delle mani, non prende. È assurdo. Capita questa cosa qui? Cioè, vuol dire che essenzialmente per essere presi da roba del genere dovete gridare mosse. Proprio attivamente gridare delle mosse. Restate lì sotto e vi fate colpire attivamente. Visually not on PC. From what I understand, what they did is that they made most attack stop tracking you. Questo è quello che dico che... Ed è la ragione per cui iniziare questo video è che... Cazzo ragazzi, ma il mostro sta letteralmente missando l'Hunter. Letteralmente. E come appunto succedeva in quarta generazione. Però in quarta generazione avevamo la metà della metà della metà della metà della mobilità di Ryze. E ripeto, io vi invito poi a riguardarvi questa clip, raga. Il mostro sta letteralmente missando l'Hunter. Non lo colpisce, sembra che sta attaccando l'aria. È brutto anche vedersi oltretutto. Non è solamente una questione di gameplay e che il gioco è diventato più casual. Che è letteralmente perché è diventato parecchio più casual in questo mondo qua. Ma è proprio brutto che missi. Guarda. Cioè, cos'è sta cosa? Quale tratta ti mette adesso sta mossa? Puoi camminarci. prima invece dovevi muogliarla e si poteva muogliare anche con gli frame normali perché quell'hitbox dura davvero poco oltretutto. e questa è la stessa cosa. è molto più facile da evadere. E quello che voglio ripetere ancora una volta gli attacchi gli attacchi non sono più difficili da evadere rispetto a prima sono difficili quanto prima soltanto che adesso il mostro sbaglia la location degli attacchi come i monster hunter di quarta generazione. O meglio non è che li sbaglia non si riaggiusta e non riaggiustandosi li missa di più ma non sono più facili da schivare gli attacchi semplicemente il mostro ti missa la prospettiva è diversa non è tu che sei diventato più bravo non è l'hunter che sa doggiare meglio non hanno migliorato improvato il mio hit anglese come al solito non hanno migliorato il dodge non hanno migliorato la schivabilità degli attacchi non hanno migliorato un cazzo è il mostro che ti missa il mostro ti missa non è diventato più facile di schivare questi attacchi è letteralmente il mostro che sbaglia è proprio diversa la prospettiva che ripeto può piacere o no ma è proprio diverso la cosa che succede vabbè andiamo avanti intanto la prima cosa che è più evidente per ogni piacere no matter il tuo livello il gioco è più facile ogni attacchi è più facile per evitare no matter se sei su o PC quindi il gioco è più facile la seconda cosa è che uno dei miei complessi con il gioco è che è molto unilaterale quindi mi raccontare cosa mi raccontare che quando un gioco è concentrato sui counter la maggior parte per le maggior attacchi il miglior e l'unico optimal di lidare è di counter l'attacchi e poi finire l'onster ok voglio fermarmi di nuovo qui vi ricordate che quando è uscito il Lusa di Nargakuga quando è uscito quando ho provato il Lusa di Nargakuga mi è notato anche quando è uscito perché l'abbiamo già fatto questo discorso live in anticipo vi ho detto Capcom sembra che stia pushando uno stile di gioco che è più simile a quello che ci aveva avevamo i Monster Hunter Frontier ed è per questo che stanno aggiungendo una serie di abilità basate sul roll e una serie di pezzi armatura che aumentano i v2 window eccetera perché sì community di Monster Hunter per rendere più difficile questo gioco Capcom deve fare i mostri che prendono e colpiscono l'hunter punto questo vuol dire ed è la ragione per cui in Monster Hunter Frontier c'erano grandi away tracking mostri che effettivamente ti facevano il culo è perché loro vogliono che tu rolli c'è questa cosa che tu loro tu quando parla di counter perché c'è una concezione proprio sbagliata della community occidentale di sta cosa almeno io la ritengo profondamente sbagliata il roll è un counter il roll con i suoi frame è un counter e adesso più che mai puoi cinare attacchi praticamente frame 1 alla fine del roll cosa che non era neanche vera in passato che prima in passato su cavi l'intera durata del roll fino alla fine adesso lo puoi cancellare la parte finale del roll oltretutto puoi rollare tutto come prima tutte le armi possono rollare con l'evasione più 5 che tanto è quello che ripeto probabilmente accadrà che tutti i set armatura eventualmente giocheranno l'evasione più 3 più 5 si cazzo devi impara a rollare gli attacchi e questo è quello che ti sto dicendo ed è meglio così rispetto al mostro che ti missa perché che vuoi appunto perché il punto è questo che cosa vuoi raggiungere che il mostro ti missa sempre e tu sei libero di fare esattamente quello che cazzo vuoi cioè sei tu a giocare col gioco il gioco che non mette la sfida che sono dei pupazzi delle punching bag questa è la sensazione che molti hanno in generale anche sugli afflitti di tier basso che in parte adesso anch'io oltretutto che tipo dicono ma i mostri di tier basso sembrano delle punching bag e grazie al cazzo se non ti pongono mai un pericolo non lo percepisci mai chiaramente no? allora che succede? succede che sembrano solamente dei grandi sacchi di HP che stanno lì e si fanno picchiare ma non è questo l'intento non è questo l'intento ed era per questo che appunto questa meccanica qua aiutava tanto a alleviare questo senso perché ti mettevano sempre lì cioè in senso erano quando vedevi che il mostro entrava in una posa d'attacco pericolosa tu non potevi semplicemente vabbè cammino via no devi attivamente provare a counterarlo e il door roll è un counter è il più migliore dei counter io secondo te potrebbero togliere ogni singolo altro counter del gioco non mi fregherebbe un cazzo a nessuno e tenere il roll perfetto tutto il gioco tutto il gioco è tranquillamente al 100% giocabile solo con i roll sarebbe più lento sì certamente perché chiaramente i counter accelerano il gameplay a livello di dps banalmente ma tutto il gioco qualsiasi armist sia mi mettete evasione più 3 più 5 nel set lo giocate tutto solo esclusivamente con i roll tranquillamentissimamente poi lascia stare che noi non siamo pronti in occidente ma in generale la community in line di monster hunter non è pronta a fare questo shift di pensiero dove il roll è il counter ok e questa è la cosa chiave ed è questo per questo io sono così tanto in disaccordo con questo punto questo punto sui counter il roll è il migliore dei contraattacchi soprattutto i cardamoi quelli che ti permettono di doggiare in modo aggressivo verso il mostro di rimanere sotto il mostro andiamo avanti per me che è questo qua pure scusate rimetto un attimo in pausa questa è letteralmente la chiave di monster hunter sin dal primo monster hunter si funziona così il mostro fa le sue mosse e tu devi imparare a reagire alle sue mosse alcune di queste mosse possono essere outsmartate col positioning altre di queste mosse possono essere counterate con i roll altre di queste mosse non possono essere semplicemente counterate e devi dire un po' quello che vuoi fare piazza una trappola lo flash non lo so il ratalos quando vola non mi pare che abbia un counter cosa fai quando il ratalos vola usi un tool è sempre stato così da monster hunter 1 ed è vero anche il rise quindi questo punto è totalmente senza significato letteralmente senza significato e questa qui è anche una grandissima cazzata perché il positioning è sempre importante perché non puoi soft mogliare gli attacchi se ti posizioni una merda comunque e sul fatto della creatività e appunto lo ripeto ancora una volta le armi le hanno costruite così e le armi counter cioè è come dire ah no ma adesso visto che hanno nerfato il tracking la longsword smetterà di fare spirit tie slash ma che cazzo stiamo dicendo e tu con l'arco smetterai di usare dodge bolt adesso che ci sono i counter che i mostri sono meno aggressivi nah non accadrà la lancia non giocherà più insta block è una grande cazzata questa cosa qui non è vero e le armi sono costruite in questo modo la gente continuerà a giocarle in questo modo e anche se tutti questi counter non esistessero la gente rollerebbe che ripeto è la mossa di base che hanno tutte le armi quindi di che cosa ci stiamo raccontando quale cazzata stiamo raccontando qui ah adesso il mostro raccambiando ok longsword player domani da domani senza spiriti a slash torniamo a giocare come si giocava in monster hunter torniamo a giocare a monster hunter world battle no manco perché il forse slash ha anche un counter basta ragazzi non li giochiamo più ragazzi ma di che cazzo stiamo parlando è una cazzata è una grande stronzata e per sostenere un punto che ripeto comprendo ma è semplicemente falso ed è soprattutto una visione estremamente miope del cosa ha sportato veramente questo cambiamento andiamo avanti e questa qui è quello che vi dicevo prima in realtà questa qui è anche su un enorme cazzata tu non dodgi prima tu cammini non stai doggiando non stai evadendo non stai mojando si stai posizionando in modo in anticipo letteralmente come succedeva nei mostri di Monster Hunter passati ma con la mobilità di Ward che ripeto il Ward ha avuto questo problema dal lancio fino alla fine di Iceborne con la mobilità che ci hanno dato in Ward questa cosa qui è talmente tanto facile e banale da fare che lo fanno tutti prima col cazzo se avevi commentato un attacco e volevi riposizionarti a parte che eri lento con le armi estratte molto più lento in generale ma devi metterti là e devi capire poi ah ma il mostro cosa farà dopo mille variabili e devi tempismi e devi prendere in considerazione qui non puoi non è che non stai evadendo prima l'attacco del mostro questa cosa non ha nemmeno senso non puoi evadere qualcosa che ancora non è successo difatti che fai evadi il raggio del Rajang prima che lo spari non stai evadendo il raggio del Rajang non stai doggiando Erli se doggi Erli al massimo ti sei riposizionato non hai mogliato è totalmente diversa la situazione non apre nessuna possibilità in questo senso è non non è più variegato semplicemente è più facile perché il mostro non si posiziona più bene il mostro ti manca e quindi chiaramente se i mostri sono più dumb il gioco è più facile e quindi sì se il gioco è più facile consente ai giocatori di eseguire strategie più stupide o di creare degli exploit più grossi come succedeva in world ed è stato un problema dall'inizio di world fino alla fine di Iceborne lo voglio ripetere ed era comunque una cosa che chi imbossa l'unter passati per quanto il tracking era lo stesso di world non succedeva semplicemente perché l'unter era indefinitivamente più lento anni avanti so you have more options now and also for example for ball sidestep is becoming a lot more viable because before the iframe was really bad so you couldn't really iframe anything and since the tracking was really aggressive you couldn't really sidestep anything and evade most of the attacks non commentare proprio queste cose là sidestep becomes very viable I still think dodgeball is better but sidestep is definitely a lot more playable now than it used to be now I think this change is for the better I know not everyone will agree with that that's fine we can have a conversation but this is what capcom decided to do so it is what it is now even though I think this is nice I don't think the game will change drastically the game is so focused on counters from the weapon design to the wire bugs to the monster moveset that even though the tracking is less aggressive and I think he will feel nicer I don't think the game will change drastically he will still play mostly the same way you've been playing before but that's pretty much it ok il video in realtà poi termina qui e questa cosa qua e che va poi oltretutto in contrasto con quello che dici col punto di prima cioè in realtà si è counterato solo col punto e io però sono in disaccordo per chi ha giocato così tanto io ragazzi ho letteralmente giocato il gioco 14 volte ok quando ho fatto la Forti Weapon Challenge finita è come se avessi giocato il gioco 14 volte difatti la campagna e il gioco cambia tanto il gioco è cambiato tanto perché puoi fare delle cose che prima non facevi proprio e il punto appunto è quello che diceva prima io che prima lui cioè che ha detto adesso lui che prima io ho counterato per un punto che lui stesso ha detto quindi si è counterato da solo noi continueremo a counterare con le mosse delle armi perché è il weapon design nuovo è il game design dei moveset delle nuove armi che funziona così quindi noi non smetteremo di usare i counter quello che cambierà è che dovremo capire che il mostro ci misserà e quindi posizionarsi e stare perfettamente immobili perché sappiamo che il tracking non esiste un po' come quando usavamo la CB in Monster Hunter passati praticamente tutto qua ora chiaramente questo fa pensare che il gioco è diventato drasticamente più facile non vorrei non voglio dire drasticamente drasticamente mi sembra un parolone probabilmente la parola drasticamente direi di no ma il gioco è diventato significativamente più esploitabile sì quello sì e io l'ho sentito tanto sai vedete anche quando me ne sono accorto non solo appunto su Magna Maso Magna Maso è tipo estremamente evidente ma Magna gli anziani ma tipo anche la Tilslam del Nargacuga ti tracca molto molto peggio la versione G-Rank del Tilslam del Nargacuga ti tracca molto peggio come dire il malzeno quando ti tira la godata e prova a infilzarti tracca molto peggio questi attacchi qua che prima sentivi come minacce adesso puoi camminarli spesso perché ci sono delle situazioni in cui questa cosa poi ovviamente non si applica come è ovvio che sia o parlo per massimi sistemi però appunto il video è questo qua in realtà e questo è il mio punto principale questo quindi che voglio dirvi è perché magari se questo video vi è piaciuto potremo fare altre video reazioni a topic della community se vi è piaciuto appunto il format il punto è questo è che non pensate che tutto quello che c'è non è tutto oro quello che luccica nel senso c'erano delle ragioni dietro quelle scelte di ora magari era davvero un bug o comunque è una conseguenza di altri sistemi perché è probabilmente quello che è successo detto ciò detto ciò questa cosa qua impatta l'esperienza di gioco ripeto non è che impatta per forza a livello negativo rende il gioco più casual nel bene e nel male perché è anche un bene per i giocatori che sono effettivamente più casual però io pensavo che questa cosa qua faceva parte faceva parte in modo significativo in realtà della soluzione di Capcom di risolvere la mobilità di quinta generazione e io ve lo dico tutta la vita ragazzi se io preferirei che nerfassero i speed multiplier e tenessero il tracking dei mostri perché è molto più artificiale avere il mostro speedy gonzalez rispetto a avere il mostro che effettivamente ti sa ammirare bene perché lo voglio ripetere per l'ennesima volta il tracking non è un cheat del mostro per far colpire sempre l'hunter il tracking consente alle ossa dello scheletro di cui sono composti i mostri di aggiustare la loro location meglio e per più tempo fine non è un cheat la conseguenza di questa cosa è che voi da cacciatori dovete imparare meglio a posizionarvi e doggiare punto questa è la differenza io ho finito il gioco con tutte e 14 le armi il gioco è 100.000% giocabile con tutte e 14 le armi ci sono alcune armi che stanno più indietro indiscutibilmente ma e questo è anche complice di quello che vi dicevo prima probabilmente Capcom ci stava pushando per giocare il gioco più simile a Frontier con la difficoltà più estrema vogliono che tu trolli le robe e quindi eventualmente sarebbe successo che noi giocavamo evasione più 5 su tutti i set dovevo almeno evasione più 3 e fidatevi che quando io ho provato già durante la campagna c'erano stati periodi di gioco dove ho giocavo evasione più 2 perché veniva dato gratis da alcuni pezzi già lì il gioco era diventato totalmente infinitamente meglio ok proprio il feeling delle cose era diventato infinitamente meglio ma ragazzi secondo voi è un caso che ci stiano dando alcune abilità come Stallish Assault ok che ci migliorano le ci danno attacco quando rolliamo la cosa di status trigger che ti dà status spaccatissimo quando rolli correttamente le cose è un caso non è un caso perché loro stanno pushando verso quella direzione chiaramente perché è l'unico modo per accelerare il pace di gioco rendere il gioco fattualmente più difficile senza aggiungere bullshit però chiaramente se il mostro vi missa se il mostro missa che senso di capito quello che dici cioè non ti viene proprio nemmeno da rollare gli attacchi è anche più ottimizzato stare che ne so con uno spadone posizionarti bene e tirai una sberla in testa anziché stare là aspettare doggiare conterare per riel qualsiasi cosa perché può essere letteralmente qualsiasi cosa grazie al cazzo perché chiaramente puoi iniziare un attacco potente prima e beh comunque questo era il mio punto ragazzi fatemi sapere quello che ne pensate da spike è tutto ci vediamo alla prossima sperando che mi torni internet ma comunque ripeto sono comunque live su twitch quindi passate fate un saluto bella grazie a tutti